Ho richiesto, grazie Presidente per avermi accolto la richiesta, è appunto l'intento di chiedere una domanda al Sindaco per quanto riguarda diverse emozioni di indirizzo che in questi ultimi 12 mesi sono state approvate da tutto il Consiglio Comunale, quasi tutte le emozioni di indirizzo all'unanimità e vorrei chiederle se l'amministrazione in questo periodo ha prodotto qualche atto, si è stato effettuato qualcosa per poter fare quello che abbiamo approvato qui in Consiglio Comunale, mi riferisco ad esempio all'intitolazione di una strada-piazza al nostro concittadino Beppe Barleri, considero che questa mozione è stata votata all'unanimità il 17 dicembre 2019, quindi è passato quasi un anno, così come l'intitolazione per i martiri delle foibe, 24 febbraio 2020 e due mesi fa, due tre mesi fa abbiamo votato per l'intitolazione di un luogo pubblico, una strada-piazza anche per Franco della Corte, non so se in questi due mesi è stato fatto qualcosa, abbiamo visto che in pochi giorni in questo periodo sono riusciti subito ad intitolare stadio al grande Diego Armando Maradona, quindi credo che queste emozioni non siano così complicate.